Quando vuoi? Ma stai già facendo? Buoni che sto andando a 125 secondi Ma sei impazio? Non so, a voi Ma che cazzo fai il video per il video? Vai Ok Grazie a tutti! Grazie a tutti! Sì, partite! Stai vicino Gabriel Grazie a tutti! Maestra il biante Maestra il biante Maestra il biante